ben trovati ad una nuova guida firmata fabio ambrosi.it quest'oggi vedremo come pulire la cache e cancellare alcuni dei dati personali che il browser firefox memorizza sul nostro hard disk quando navighiamo in rete non abbiate paura non è che vengano salvati chissà quali dati personali diciamo che ogni volta che voi visitate un sito internet il browser salva le immagini la cronologia e altri file sul nostro hard disk per evitare di doverli scaricare continuamente ogni volta che visitiamo la stessa pagina è bene pulire la cache ogni tanto per liberare spazio sul disco o è anche utile pulire la cache rimuovere un po dei nostri dati personali se utilizziamo un computer in condivisione con qualcun altro per evitare magari che la cronologia ecco venga letta da occhi indiscreti sono sei i passaggi da seguire quindi iniziamo subito step numero uno aprire firefox sapete già come si fa individuate l'iconcina sul vostro desktop o sulla barra delle applicazioni se presente fate doppio clic step numero due una volta che viene aperto firefox individuate l'iconcina con i tre trattini in alto a destra il famoso panino e cliccateci sopra verrà aperto un menu con tutte le opzioni disponibili e le funzioni disponibili in firefox step numero tre cercate la voce impostazioni la voce impostazioni come suggerisce la parola stessa ci permette di accedere alle impostazioni cliccate step numero 4 sulla colonnina di sinistra individuate e cliccate sulla voce privacy e sicurezza come potete vedere il menu di destra cambia le voci cambiano e abbiamo tante opzioni per gestire la nostra privacy e la nostra sicurezza step numero 5 scrollate un pochettino in basso cercate di individuate la voce elimina dati la trovate qui nella sezione cookie e dati dei siti web step numero 6 siamo arrivati all'ultimo step da seguire scegliete che cosa voler cancellare quali dati voler rimuovere quando avete deciso cliccate su elimina confermate e i nostri dati sono stati rimossi dal nostro hard disk è tutto per questa guida vi ringrazio per avermi seguito mettete un like se il video vi è piaciuto condividetelo iscrivetevi a questo canale youtube e vi aspetto su www.fabioambrosi.it per notizie altre guide tutorial corsi e molto altro ancora